Traffico bloccato questa mattina sulla via romana di Chiesina Uzzanese in prossimità del casello autostradale. Per cause al vaglio dei vigili urbani, due autovetture sono entrate in collisione, sembra quasi un frontale, e a fare le spese tre passeggeri delle due autovetture, sul posto la misericordia di Uzzano e altre due ambulanze per soccorrere i feriti. La strada è rimasta bloccata per circa un'ora, fino a quando è stata liberata. Sono state rimosse le autovetture sul posto i vigili urbani di Comuni di Bugiano, Chiesina Uzzanese e Uzzano.